So che stenterete a crederci ma questo dispositivo qua non è un Google Pixel bensì un Huawei P40 Pro e qui non si tratta soltanto dei servizi Google ma di un'intera personalizzazione un po' blasfema per andare a rendere praticamente il più simile possibile a un dispositivo Google un dispositivo che con Google ha un po' rotto e allora scopriamo come trasformare il Huawei P40 Pro in un Google Pixel all'interno di questo video ed eccoci qui quindi sul banco di prova con il nostro Huawei P40 Pro lo smartphone di Huawei che come sappiamo non ha i servizi Google ma che come abbiamo visto anche in un video che vi ho pubblicato un po' di tempo fa che è andato anche molto bene anche in una guida testuale pubblicata su tech.it noi abbiamo trovato un modo per installare i servizi Google e infatti vi faccio vedere che non c'è solo il Play Store dopo ve lo apro per completezza ma andando a cercare tra le app e i processi Google vedete abbiamo Google Account Manager Play Services, Play Store, Google Service Framework quindi c'è veramente tutto e come vi dicevo c'è soprattutto il Play Store che come vedete è perfettamente funzionante vi provo anche l'installazione di un'app in modo da farvi vedere che non solo c'è l'app ma funziona è utilizzabile, la uso tutti i giorni, si possono anche andare ad aggiornare le app insomma è un telefono ora completo, un Android normale con tutto ciò che riguarda Google come vedete c'è Maps, c'è Photo, c'è Chrome, c'è Gmail, tutte queste applicazioni sono tutte funzionanti c'è Podcast che vi sembrerà paradossale ma Podcast è un'app che senza i servizi Google non va addirittura senza i servizi Google vanno ad esempio Maps, Photo, seppur limitate Podcast è un'app che non si apre assolutamente c'è ovviamente anche YouTube ma come vi dicevo questo ora è a tutti gli effetti un pixel in pratica perché intanto come potete vedere questo è un launcher ispirato alla grafica pixel ma abbiamo anche una schermata di Google Now però andiamo con ordine e vi spiego come ottenere questo risultato come vi stavo dicendo l'aspetto fondamentale per operare senza troppi fastidi è quello di installare il Play Store e di conseguenza anche i Google Services su questo vi lascio nella scheda qui il video in cui vi ho già spiegato come effettuare l'installazione del Play Store e dei Google Services è relativamente semplice ma c'è comunque bisogno di seguire alcuni passaggi di partire da uno smartphone che sia ripristinato quindi senza contenuti già all'interno bisogna azzerarlo vi servirà una chiavetta USB-C insomma c'è tutto all'interno del video che vi lascio nella scheda e in descrizione ed è lì diciamo che è da lì che si parte quindi vi servirà prima di tutto il Play Store dopodiché come ho personalizzato questo smartphone per farlo essere praticamente identico a uno smartphone pixel beh partiamo dalla base dal launcher il launcher guardate è un launcher particolare non l'avevo mai utilizzato prima però l'ho voluto testare su consiglio di un mio collega del buon Claudio e vi faccio vedere si chiama LaunchShare e dovrebbe essere impostato come la propria definita quindi eccolo qua LaunchShare scritto in questo modo L-A-W-N-Share lo lascio chiaramente anche lui in descrizione ma soprattutto lo trovate sul Play Store quindi è semplicissimo LaunchShare 2 in questo caso questo è il launcher che dovete scaricare è un launcher molto molto ispirato all'interfaccia Google ma anche molto personalizzabile perché vi dà modo di fare diverse cose allora andiamo nelle impostazioni c'è un'app impostazioni molto molto completa per questo launcher che vi dà modo intanto di cambiare le icone cosa fondamentale perché cosa ho fatto io? nelle impostazioni di sistema di default le icone su WP40 Pro sono quadrate con gli angoli smussati io ho impostato cerchio questo perché sugli smartphone Pixel c'è questo tipo di forma fatemi abbassare un po' la luminosità così leggete meglio il tutto dopodiché abbiamo pacchetti icone qui ci sarebbero di solito le icone di sistema voi scaricate Pixel Icon Pack sempre dal Play Store se scrivete Pixel vi esce subito Pixel Icon Pack Pixel Icon Pack e questo qui il primo è il pacchetto che dovete scaricare che vi attiva le icone che avete visto già nella home che sono queste qui che sono parecchio diverse da quelle di Huawei P40 P40 Pro e in generale della famiglia Huawei poi fatto questo vi resterà soltanto da personalizzare un po' il launcher come preferite quindi tornate qui e ad esempio io cosa ho fatto? ho scelto di nascondere dal dock dove si trovano le etichette quindi vedete qui non ci sono i nomi delle app anche perché ho scelto sempre dalle impostazioni di launcher di impostare il dock o meglio la ricerca nel dock proprio come sugli smartphone Pixel quindi non soltanto nell'apertura diciamo del launcher in questo modo del drawer scusate in questo modo ma direttamente vedete integrato qui e la cosa bella di questo launcher è che potete scegliere cosa far fare a questo widget quando lo premete in questo caso io ho scelto di avere la ricerca combinata tra app e ricerca Google quindi se scrivo meteo ad esempio vedete mi viene fuori vabbè meteo mi viene fuori sia un po' di ricerca Google sia le applicazioni per il meteo e la cosa appunto sorprendente di questo launcher è che potete cambiare questo aspetto vedete andate qua andate su dove era si trova motore di ricerca se ad esempio impostate ricerca app vi limitate alle app se impostate app Google farete una ricerca soltanto su Google o altrimenti potete farla su tutti questi servizi se lasciate Google invece avrete la soluzione ibrida che tanto piace a me perché posso appunto sia cercare su Google sia cercare direttamente nelle mie app quindi in modo da trovare tutto ciò che mi occorre poi chiaramente questo widget standard di Google con meteo e calendario ma c'è anche un widget scusate di direttamente long share che è molto più personalizzabile anche se io poi ho comunque preferito lui e dall'altra parte qui giusto per completare per avere comunque una home simmetrica ho impostato il buon Cronus con le ultime notizie scrollabili direttamente così però lasciando così le cose il lavoro non sarebbe completo perché come sapete sugli smartphone Pixel abbiamo ma in generale sugli smartphone con Android Stock abbiamo questa schermata qui questa schermata che purtroppo in questo periodo non è che raccolga soltanto notizie positive ma è la schermata di Google Now e come si fa ad ottenere questa schermata qui su Long Share 2? beh si fa tramite una companion app una pick up che bisogna scaricare separatamente che io vi lascio nella descrizione del video così potete scaricarlo e installarlo al volo e tramite appunto questa pick up una volta installato potrete ottenere questa schermata qui di Google ma vi dirò di più potrete ottenere anche ad esempio il richiamo dell'assistente Google in questo modo direttamente con uno slide dai lati in realtà in questo caso ho richiamato la modalità ad una mano se fate... ecco non ci riusciamo più lo avete visto un attimo ma mi sa che ora è subentrata la gesture eccola qua potete richiamare l'assistente Google parlarci e utilizzarlo come app di assistenza preferita questa cosa qua però la dovrete impostare quindi se voi andate... adesso bisogna ricordarsi dov'era si trova in app predefinite altro... no non è qui comunque quando installerete di sicuro il companion app vi verrà chiesto quale assistente volete utilizzare sul vostro dispositivo in quel caso se volete utilizzare Google lo selezionate vi consiglio di selezionarlo perché su Huawei P40 Pro nella versione italiana del software non abbiamo Silia che sarebbe l'assistente introdotto da Huawei quindi al momento non c'è un assistente su questo dispositivo vi consiglio quando vi verrà richiesto di abilitare Google e poi beh per essere... eccolo qui vedete funziona anche il riconoscimento delle parole e poi per essere insomma completo cosa ho fatto? ho scelto uno sfondo molto simile a quello tradizionale dei Pixel che però vi dirò la verità non è uno sfondo dei Pixel perché questo sfondo qua è uno sfondo originale della MIUI 12 di Xiaomi che è diventato ufficiale da pochissimo poi chiaramente tutte le gesture vedete rapide sono esattamente quelle dell'interfaccia Pixel e tra l'altro a differenza di quello che accade con gli smartphone Huawei che non hanno questa possibilità quando la possibilità è data vedete potete anche andare a creare uno shortcut vabbè ora non c'è più spazio nella home però volendo io potrei andare a creare vedete direttamente una icona per i selfie e quando premo così vado direttamente ai selfie è un qualcosa che di default invece nel launcher di Huawei non abbiamo ma che è una caratteristica appunto propria degli smartphone Pixel e se non mi credete che questo è veramente un Huawei P40 Pro ve lo giro così adesso non avete più dubbi quindi ragazzi spero vi sia piaciuto questo video tra l'altro ecco da notare anche l'interfaccia orizzontale che si può abilitare tramite le impostazioni di Launch Air spero vi sia piaciuto questo video spero che anche voi vi vogliate cimentare così come sport nella realizzazione di un Huawei di nuovo pienamente ispirato a Google noi in ogni caso vi lasciamo tutti i riferimenti tutti i link in descrizione e ci rivediamo presto in un prossimo video ciao a tutti da Andrea Cervone per tech.it